...delle nuove e delle new entry molto interessanti a livello artistico, diciamo che sembra che abbia trovato le persone a livello artistico per poter iniziare questo progetto di Ariel in maniera proficua e molto intensa, però non sono mai abbastanza gli attori e le attrici che noi cerchiamo quindi fatevi avanti anche perché i progetti o si perseguono oppure no, bisogna comunque avere la professionalità appunto quanto attori, la professionalità di un attore non è solo cercarsi casting, cercare film, le nuove cose ma la professionalità di un attore è soprattutto quella di essere sempre disponibili se ritengono opportuno un determinato progetto, quindi se questo è un progetto serio, è un progetto che comunque se non altro vi lascerà comunque come attori, come artisti è un bagaglio importante, quindi ne vale la pena visto che ci sono tante agenzie che spillano solamente soldi oppure laboratori teatrali che chiedono solamente soldi in cambio di nulla, comunque l'innovatore Francesco Olivieri non chiede nulla in cambio chiede solamente appunto la vostra presenza, la vostra professionalità, mi sembra al minimo e quindi avrete, cioè regalatevi questa opportunità e non ve ne perdirete perché comunque riuscirete comunque migliorate umani, anche umanamente e credo negli esseri umani che hanno il coraggio di essere umani quindi frate di una canzone questa frate cos'è Marco Mengoni? esatto eccola come dice Mengoni, credo negli esseri umani che hanno il coraggio di essere umani quindi siate umani ma siate anche attori attori a 360 gradi, quindi abbracciando questo progetto grazie grazie Musica